Si è deciso di affrontare dei grandi temi di interesse diffuso, di interesse nazionali, declinandoli al regionale. La prima di queste campagne, consapevoli di affrontare un tema dal quale siamo stati molto sollecitati sul versante della cronaca e anche il Presidente della Repubblica Napolitano più volte è tornato su questo tema, è il tema della sicurezza sul lavoro. Prima di parlare di questa campagna e di chiedere l'intervento dei graditissimi ospiti, la direzione comunicazione e relazione esterna ha presentato uno spot che sarà trasmesso anche sulle rete nazionali, che chiederei magari lo vediamo insieme e poi entriamo nel merito. Allora vediamo il video, grazie. Grazie a tutti. Ecco, come avete visto dal lunedì prossimo parte questa prima campagna, su un tema del quale perfino le autorità europee continuano a sollecitare attenzione e impegno. Non vogliamo dimenticare quanto è successo negli anni. Le nostre redazioni nel territorio hanno raccontato purtroppo e continuano a raccontare tragedie. L'obiettivo è quello di non dimenticare, di andare a verificare cosa è successo, se i risarcimenti sono arrivati, se i problemi sono stati risolti, se gli interventi auspicati sono stati realizzati. La logica, l'approccio di queste campagne è anche quella di sollecitare la conoscenza delle buone pratiche, perché constatiamo che i nostri telespettatori sono un po' stanchi di un'informazione ansiogena, quindi accanto all'opera doverosa di denuncia dei mali vogliamo anche svolgere un'attività di promozione, per portare anche a conoscenza modelli imprenditoriali di formazione e di impegno positivi, virtuosi, che possono anche trovare emulazione. Per cui ci sarà anche una collaborazione intraregionale. Dei servizi che potranno avere un qualche interesse anche per altre regioni saranno scambiati e messi no. Vogliamo dimostrare che su questo tema non solo si deve, ma si può fare ancora qualcosa e l'informazione deve dare il suo contributo. Questi giorni ho ascoltato i capi delle redazioni regionali, che qui ringrazio per l'impegno insieme ai colleghi che hanno messo nella preparazione di questa prima campagna, peraltro ridosso di una campagna elettorale piuttosto impegnativa. Il segnale che mi arriva è che soprattutto sul versante dell'agricoltura, e qui gli addetti ai lavori possono darmi conferma, il fenomeno si intreccia con quello dell'immigrazione e anche il ricorso al lavoro nero, ci sono come dire segnali sempre più preoccupanti. Vogliamo segnalare ancora il permanere di emergenze nazionali, la sorte dei lavoratori dell'amianto, il tema della sicurezza ambientale, della prevenzione, il lavoro di formazione, quindi la scuola, l'università, l'educazione alla sicurezza e il ruolo delle istituzioni e delle parti e delle parti sociali. È un percorso impegnativo, per noi gratificante sotto il profilo professionale, e in questo percorso abbiamo incontrato dei compagni di strada che su questi temi mettono in campo competenza e professionalità. L'INAIL, il ministero del lavoro con tutte le sue strutture e articolazioni periferiche, le forze dell'ordine con in primo piano il nucleo dei carabinieri tutela del lavoro, il mondo dell'associazionismo, il terzo settore, le parti sociali. Un racconto che parte dai territori sul tema della sicurezza, appunto con le grandi emergenze, ma anche con le buone pratiche. Se volete vi cito e chiudo un po' dell'offerta che in questi giorni, in tutte le nostre produzioni, quindi dalla mattina fino alla sera, nei cinque giorni ci saranno. Dal Veneto alla Sicilia, il TGR Toscana aprirà la settimana in diretta da Prato, ricordando la strage dei cinesi, ma poi si andrà a Carrara per parlare della sicurezza nelle cave di marmo. Il TGR Puglia chiuderà la settimana dall'ILVA di Taranto, altro luogo simbolo. Da Aosta racconteremo la sicurezza nel cantiere più alto d'Europa, la funivia del Monte Bianco. Alto Adice, il pericolo del mio mestiere, la vita dei soccorritori di montagna. Il TGR dell'Emilia Romagna ci racconterà la vita da artificiere. Il TGR Sardegna, anche la formazione per la sicurezza in lingua sarda. Dal TGR Calabria la storia e le storie dell'infinito eterno cantiere dell'A3. TGR Lazio, storie di donne e infortuni. Il TGR Sicilia ha scoperto a Gela una specie di patente appunti per le aziende virtuose. Il Veneto, la sicurezza nei cantieri per i beni culturali. Insomma, qui mi fermo. Ovviamente anche i ladini, gli sloveni ci racconteranno delle storie e ci proporranno dei buoni esempi. Ci saranno anche dei fili diretti con gli ascoltatori nel giornale 12 e 10. Bari si è dotata di un numero verde proprio per raccogliere le segnalazioni. Poi abbiamo anche alcune esclusive. Ne cito una, un'intervista al Commissario europeo sul lavoro, Andor, che parla del ruolo delle regioni nel programma dell'Unione 2014-2020. Alcune novità dell'Inail che non vi anticipo. E poi, anche qui non ve lo dico, probabilmente ci avverremo anche di qualche intervento, ovviamente non ve lo posso dire per motivi di riservatezza e per l'efficacia dell'intervento anche dell'Arma dei Carabinieri, qualche nostra troupe seguirà qualche intervento su qualche cantiere se ci riusciamo. Insomma, come vedete, una attività davvero molto articolata sul territorio, un'attività pensata, è la prima di una campagna, ne seguiranno degli altri. Posso dire che una sicuramente sarà dedicata, ci crediamo molto, al tema della scuola, è intestata, stiamo anche valutando se quella, crediamo sul ruolo dell'educazione e della formazione, se quella renderla una campagna in qualche modo permanente. Proprio nei prossimi giorni ci sarà un colloco con il Ministero dell'Istruzione per vedere proprio questa campagna di articolarla e di strutturarla all'interno del lavoro della testata.